presenti alle elezioni. Buonasera. Cominciamo con un pirata. Grazie. Marco Czurcina. Czurcina. Allora, avvocato, esperto di diritto all'information technology, del diritto al dottore, partito pirata. Partito pirata che nasce nel 2006 appoggiando candidati di lista di sinistra tendenzialmente, se qui leggo bene, storicamente, insomma. Ma, sì, per essere precisi, il partito pirata è un partito europeo. Nasce in Svezia nel 2006, sulla scia delle vicende del Paradei, e quindi lì nasce. In Italia è sempre stato sotto traccia, diciamo. In questo momento ci presentiamo in 11 paesi europei con un unico programma. E basta. Quindi c'è un unico programma, un unico modo di presentarsi. Allora, qui leggo che nel suo programma il deficit democratico all'interno dell'Unione Europea esiste dalla sua Costituzione. Qual è questo deficit democratico? Guardi, l'Unione Europea nasce come risultato di un processo storico lungo che trova le sue radici ideali, per esempio, nel manifesto di Ventotene. Ecco, il sogno, l'idea... Gli antifascisti che pensavano già, Altiero Spinelli pensava già ad un'Europa, sognavano già un'Europa, pur stando al confino a Ventotene. Esatto. Per risolvere un problema specifico, il fatto che l'Unione Europea, l'Europa fosse caduta ben due volte, nello stesso secolo, in guerre disastrose e catastrofiche. Quindi l'idea era quella di creare un'Unione Europea, un'Unione di Stati federati, per risolvere il rischio della guerra, per risolvere il problema del rischio della guerra. E secondo lei l'Europa attuale non ci è riuscita? Non ancora. Non ancora. Il processo è ancora in corso. C'è una meta da raggiungere che ancora non è stata raggiunta. In questo momento ci sono delle istituzioni che sono una creazione originale, anche nel panorama giuridico internazionale, non sono un'organizzazione sovranazionale, non sono un'organizzazione statale unica. C'è lei vorrebbe un'Europa politicamente unita? Personalmente sì. Un'Europa federale? Sì, questo è il progetto anche nel programma del partito pirata. Arrivare a un'Unione più intensa, ma soprattutto a un'Unione Europea che gli dia potere ai cittadini. Perché in questo momento le istituzioni europee non sono veramente democratiche. Il potere ai cittadini è una bella affermazione, ma che significa potere ai cittadini? In genere i cittadini esprimono il voto, la mandano in Parlamento e quindi delegano a lei l'esercizio del loro potere. Di chi l'ha votata? In questo momento nell'Unione Europea il potere è troppo sbilanciato nell'organizzazione esecutiva, l'organismo esecutivo che è la Commissione, è preponderante il potere del Consiglio. Il Parlamento conta non abbastanza. Il Parlamento europeo dovrebbe avere molto più potere di quello che ha in questo momento. Il Parlamento è l'organo che si elegge democraticamente. Noi eleggiamo i parlamentari europei, non eleggiamo il Consiglio e men che meno... Quindi lei vorrebbe sostanzialmente un Parlamento, per capirci, con i poteri di quello italiano, per esempio? Sì, anche di più. E cioè? E cioè vorrei un Parlamento che conta veramente, vorrei un Parlamento nel quale si prendono decisioni, che non è subordinato agli interessi delle lobby e che esprime veramente la volontà dei popoli presenti in Europa. Allora, buona campagna elettorale al Partito Pirata. Grazie.